E' allarme blatte a causa del caldo e dell'immondizia all'aperto. Dopo Tor Pignattara, questa volta le segnalazioni arrivano dal Torrino Nord, quartiere del nono municipio. Le blatte popolano i bidoncini della differenziata, posti di fronte ai condomini escono dai tombini e arrivano nei negozi, negli androni dei palazzi e nei garage. La denuncia arriva da Federico Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia in Campidoglio, presidente della Commissione Garanzia e Trasparenza. Non bastano cinghiali, gabbiani, cornacchi e topi, spiega Rocca. Ora Roma prendono piede anche le blatte. Non ci facciamo mancare nulla e già da giugno in alcuni quartieri, in particolare al Torrino, la presenza di questi insetti è diventata preoccupante. Ad attirarle in superficie, secondo i consiglieri, sono i rifiuti dei bidoncini della differenziata che si trovano sui marciapiedi. E questo è per volere di ama, denuncia Rocca, obbligando da oltre un anno alcuni condomini a esporli sui marciapiedi antistanti perché gli operatori non entrano più nei palazzi, lamentando alcune difficoltà. Si chiama porta a porta, ma alla fine i cittadini devono esporre i bidoncini su strada. Spesso i privati sono costretti a pagare la disinfestazione di tasca propria, per questo Rocca chiede con urgenza un intervento di ama, settore ambiente, visto che la situazione igienico-sanitaria è davvero preoccupante.